Vinitaly, parliamo di Export con Edoardo Fred International, chi meglio di te ci può presentare come sta andando l'Italia sui mercati internazionali? Buongiorno a tutti, abbiamo appena inaugurato il Vinitaly anche quest'anno, quindi ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, abbiamo circa una cinquantina di aziende rappresentate, quindi abbiamo una buona conoscenza di quello che è tutto il panorama italiano, devo dire che le previsioni sono molto interessanti, quindi devo dire meglio della Provine, ci aspettiamo più pubblico, più pubblico anche misto, quindi molta più Asia rispetto alla Provine, che è un dato estremamente interessante e anche un pochettino di Africa che invece è totalmente mancata la Provine e anche la Germania stessa è più presente qua per i vini italiani rispetto alla Provine di Dusseldorf addirittura. La vostra attività che fate qui a Verona? Diciamo che raggruppiamo tutte le cantine cercando di coinvogliare anche il più numero di clienti possibili, quindi diciamo che un cliente qui da noi rimane un'oretta, due, possibilmente anche tre, chiaramente riesce a degustare un pochettino tutte le cantine che rappresentiamo in one shot. Un consiglio a un giovane che vorrebbe intraprendere questa carriera di export manager? Di non farla, no scherzo, di avere un grandissimo coraggio e quindi di buttarsi sui mercati esteri. È un lavoro molto molto interessante perché chiaramente apre tantissimo la mente e fa crescere le persone, però è un lavoro che sembra solo bello, in realtà è molto molto demanding, quindi bisogna girare tantissimo, andare dai clienti, ora che si può, quindi dopo la pandemia, andare a contatto con i clienti e stringere la mano, aprire le bottiglie e girare veramente un sacco. Quindi lacrime e vino. Assolutamente sì, assolutamente sì, un bel condensato. Grazie. Grazie a tutti.